Abbiamo diversi casi legati soprattutto con incidenze di positivi alle scuole, tant'è che l'incidenza più alta l'abbiamo proprio sui minori sotto i 13 anni, che è di 424 su 100.000. Quando per la popolazione in generale l'incidenza è 303 su 100.000 abitanti. La riapertura delle scuole inevitabilmente ha contribuito alla diffusione del virus. Sono oltre 200 i nuovi casi, 63 all'infanzia, 96 nella scuola primaria, 102 tra le classi superiori. Su 800 tamponi fatti di media al giorno, il virus SARS-CoV è presente in una persona su due. Stanno aumentando anche i ricoveri in ospedale, il nostro R-T è 0,91. Tra stanotte e stamattina abbiamo avuto 11 nuovi ricoveri di persone in malattie infettive, tutte persone anziane con pluripatologie. Liberi sì, ma quando si entra a contatto con i nonni è importante usare la mascherina FFP2. Torna a ribadirlo il direttore generale dell'Ulss2, Francesco Benazzi, che non si dimostra sorpreso da questo innalzamento della curva. Dobbiamo evitare che gli anziani arrivino in ospedale. E questo fa parte di un'etica che ognuno di noi deve avere, che quando è con una persona anziana fragile deve usare la mascherina. L'R-T, ovvero il tasso di contagio, passa da 0,60 a 0,91. Le malattie infettive di Treviso e Vittorio Veneto stanno accogliendo i pazienti Covid. E se la situazione per ora rimane sotto controllo, un importante aiuto potrebbe arrivare a breve dal vaccino anti-influenzale, soprattutto per i pazienti più fragili. Incontreremo la prossima settimana i medici e famiglia per partire anche con loro. È fondamentale vaccinarsi per influenza. E dopo, per le persone fragili, over 60, eccetera, sarebbe corretto fare anche la dose booster. Un dato non meno importante rilevato dai sanitari sulle persone ricoverate questa notte per Covid. La maggior parte di questi non ha fatto le dose booster.